Ciao a tutti, bentornati a Be The Issues, il format di Bocconi TV in collaborazione con Unifood. Oggi vi prepareremo un dessert speciale per Natale, prepareremo una mousse al cioccolato che si adatta ad ogni occasione, ce ne con amici ma soprattutto è buona accompagnare il panettone durante la cena di Natale. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 200 g di panna, 200 g di cioccolato fondente, 40 g di tuorli e poi per decorare farò una colì di lamponi e quindi useremo anche dei lamponi che sono all'incirca 125 g e 100 g di zucchero a velo e poi ci sbriccioleremo sopra anche dei biscotti a piacimento per rendere tutto più delizioso e gustoso. Allora, iniziamo sciogliendo a bagno marina il cioccolato fondente Ok, metto sopra. Mi raccomando attenzione a non fare mai bollire l'acqua perché sennò mettiamo il cioccolato. Mischia e quando tu vedi che il metà del cioccolato è sciolto lo taglio dal fuoco e non mi aggirare così raggiungiamo una temperatura abbastanza ideale. Allora, iniziamo montando i tuorli. Ok, qua il cioccolato si è sciolto. Allora, il cioccolato è pronto. Lo lasciamo raffreddare un secondo. E intanto ne abbiamo montati i tuorli e adesso montiamo la panna. E' importante che la panna sia montata ma non troppo, non come quelle che trovate in gelateria super con la gelato. Perché una volta che mixeremo la panna con il cioccolato e i tuorli, sembra montare ancora un po' e dopo la mousse diventerà troppo pesante. Allora, montiamo la panna. E ancora un po' molle, per la consistenza giusta. Allora, adesso è importante questo procedimento. Stempere un po' il cioccolato con la panna perché se lo metto subito con i tuorli e la panna e il cioccolato che è caldo e freddo viene tipo stracciatella e noi non vogliamo questo effetto. Quindi stempere un po' il cioccolato con la panna. Vuoi mischiare Sara? Certo. Ok. Adesso mescoliamo tutto con una frusta perché dobbiamo ancora montare leggermente la nostra mousse. Prendiamo la frusta e mixiamo i nostri tuorli con la panna e il cioccolato. Ora, se tu mi puoi mettere il cioccolato piano piano? Sì. Dimmi se vado con gli occhi. No, no. Vai, vai. Non avere paura. La mousse è pronta. E adesso la mettiamo per all'incirca minimo un'ora e mezzo, due in frigorifero, così si addenserà al meglio. Allora, è passata un'ora, un'ora e mezzo, la mousse è quasi pronta e quindi prepariamo la police di lamponi che accompagnerà la nostra mousse. Ora trasferiamo il nostro lampone in una ciotolina in cui poi andremo ad aggiungere lo zucchero a vidro. Però prima di questo lo setacciamo per togliere gli eventuali semi. Questo procedimento è molto importante perché il lampone è pieno di semi. Che cos'è un'aculi? Un'aculi è una sorta di frutta. Ah, ok. Fatta con solamente pure di frutta fresca e zucchero a vidro. Possiamo andare ad aggiungere un pizzico di limone. E a mano a mano andiamo ad aggiungere il nostro zucchero a vidro. La lasciamo da parte e ora possiamo andare a prendere la nostra mousse. Vado. Sara, grazie. Che bella. Ok, ora possiamo impiattare. E Sara, se mi puoi prendere il piatto? Vado. Ok. Prendo due cucchiai. Ok. Infine ci sbricchiamo gli biscotti al cioccolato. La nostra mousse è pronta. Grazie per essere stati con noi e buone feste e buon Natale a tutti. Ciao. 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 Ciao.